A volte ritornano, perché, guarda caso, Gisella ha ripercorso il percorso inverso. È vero, è vero. Cosa è successo? Perché poi? Allora, io sono sempre stata tutti quanti, dico che sono cresciuta con fish and chips e pasta asciutta, perché in casa parlavamo anche italiano, dialetto e inglese naturalmente tra sorelle, perché è madrelingua, però poi fuori c'era un'etnia, c'era il mondo multiculturale e in Italia venivo spesso con mio babbo per i mobili, perché è un commerciante di mobili e quindi venivamo spesso le sorelle e quindi mi piaceva molto questa cultura, sono vissuta con la cultura italiana, questo mix di italiano e inglese mi ha sempre accompagnato, quindi devo andare un pochino indietro. A 16 anni vinsi questo talent show a Melbourne. Mi piaceva sempre cantare, la mia sorella più grande cantava prima di me. una famiglia molto artistica, mio papà portava degli artisti italiani a Melbourne, faceva anche il conduttore come te. Dai, bellissimo! Quindi per una rete italiana televisiva, quindi questo personaggio di mio papà, mia mamma pure, che adesso è attrice, è un'altra pazza. perché comunque la comunità italiana è presente. All'epoca era grandissima, adesso sono 1,5 di 4 milioni. Un milione e mezzo? Un milione e mezzo di italiani. L'italiano è la seconda lingua parlata a Melbourne, perché la comunità è pazzesca. È molto insediata. Sì, sì, sì. Ma solo Melbourne o anche in generale più a Melbourne? Più a Melbourne. Sydney è più asiatica. Ok. Ci sono anche a Sydney e Perth, Adelaide, però Melbourne diciamo la concentrazione di tantissimi italiani. Let's speak English today! Eccolo! Sarebbe fantastico! Mi piacerebbe molto! Facciamo la trasmissione con English? Io posso partire dicendo the CD's on the table. This is my new CD, guys. Double, double! Double! Oh, visto che c'è, perché non parlarne? Era qui casualmente la prima lezione. Di solito si parte con the pen. The pen is on the table. Lesson number one. But this time the CD is on the table. E poi, vabbè, gli italiani che emigrarono loro 50 anni fa, 60 anni fa, hanno storpiato anche l'inglese, no? Per spostare il camion cosa succedeva? Un tracco. Eh, un tracco. Il tracco, perché mio papà ha mobili, no? Deliveries, nelle consegne, carichiamo un tracco. The truck. Il tracco in inglese con la O finale diventa un... Sì, perché diventa proprio familiarizzate per loro, no? Diventa loro. Sì, è uno slang particolare. È un linguaggio che appartiene all'italiano, però è inglese, sto pianto. Ed è così, si sentono delle cose... Ma invece l'australiano capiva questo... Assolutamente no. No. Era cristallo. a vivere, trovi ristoranti, caffè, bar. È un quartiere proprio italiano. E quindi trovi magari anche l'anziano di 80 anni, che emigraò 5-60 anni fa, e parla un po' così. Non parla neanche l'inglese. La mia nonna, che non c'è più, bless her soul, non parlava una parola d'inglese. Ah, eppure... Eppure... Precisamente inserita. Sì, sì, inserita, perché, per esempio, vai in un tram, vai al mercato, a Melbourne, Victoria Market, nel tram stesso trovi sempre italiani. Chi fa turismo a Melbourne, ragazzi, non dovete neanche parlare inglese. No, uno fa un sacco di chilometri, vado all'altra parte del mondo e dice, ma mi sono perso qualcosa, o sono ancora a casa, o sono a Melbourne. Sì, ma infatti... È perché hai questo flashback, no? È così, comunque. Ah, sì. Dico, gli italiani hanno fatto pure l'Australia, hanno contribuito a questa terra meravigliosa e all'economia anche dell'Australia. E poi il made in Italy, la bellezza, lo stile... Un incentivo, no? Perché per chi è spaventato da... No, certo. E poi vado là, non pare invece... Non devi nemmeno fare quelle storie nuvola, once a war, modello Toto FB, no? No, 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 no. Vai tranquillo, parla italiana. Vai a Loigon Street, Calton, Kangaroo, trovi sempre qualcuno. Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Anche perché, in merito alla pubblicità, adesso si è soliti associare dei prodotti, dei successi o presunti tali che diventano grazie alla pubblicità. Esatto, bravissimo. Infatti, da parte di tanti artisti, speriamo magari venga sincronizzato con qualche spot pubblicitario in termine tecnico. Anch'io, il mio singolo, mi raccomando, ragazzi. Sincronizzato. Proprio perché ha una spinta straordinaria in virtù di una serie di passaggi gratuiti, promozionali della canzone, associati a un prodotto. Tanti utilizzano la pubblicità per far promuovere un disco, un singolo, un artista, anche giovane, o se no, in questo caso, ultimamente, come dicevi tu, fuori onda per la telefonia, grandissimi artisti con successi che devono essere lanciati dalle case discografiche, e quindi sincronizzano un prodotto, va in onda, è già un successo. Anche, invece, quello che era un'abitudine rispetto al passato era quella di creare appositamente il jingle in merito al prodotto o alla campagna che veniva. All'inizio si faceva così, un pezzo originale, dovevi avere un briefing, c'era una storia, un storyboard, come tutt'oggi, c'è uno storyboard di questa pubblicità, il musicista, la casa di produzione, si mettono insieme e creano questo jingle. Creano una canzoncina che rimane veramente in quei 15 o 30 secondi orecchiabilissimo e diventa proprio associato a quel prodotto. Quindi tu vedi la coppa da nonno, senti già il jingle. No? Eh sì. Poi quelli sono veramente divertenti perché divento attrice. Stavo pensando, ma invece di Gisella Costa, si chiamava Gisella Spot? Spot. Un giorno farà una raccolta di un cd con tutti i miei spot. No, no, ma devo farlo, perché tanti mi hanno chiesto una compilation, diciamo, di tutti i miei spot. Eh, sarebbe... Sarebbe una cosa carina da fare. Ultimissima? Chiquita banana. Chiquita banana. Abbiamo voluto mettere il bollino. Adesso è veramente fresca e si chiama Just Smile ed è una campagna mondiale. Adesso fa il giro del Belgio e poi farà tutto il giro. Quando, quando, quando. Uno di quei brani che non ha bisogno di presentazione, però mi è piaciuto la rivisitazione al di là dell'inserimento anche del rap, ma l'arrangiamento è carissimo. L'arrangiamento di quasi tutti i brani è di Carlo Palmas, musicista e arrangiatore molto competente, molto preparato e abbiamo trovato dei suoni e delle diverse cose per rappresentare questo pezzo a modo nostro, no? Che mi vestisse veramente bene. Poi c'è questo rapper Karim Domo che fa questo rap in inglese, sia per la versione inglese sia per quell'italiano, che ha portato quella freschezza pure. C'è poi un bellissimo video. Eh, come no? Che dà anche una cornice... Bravissimo, all'inizio di questo video c'è un tocco anni 50, quasi dolce vita, con dei costumi meravigliosi per poi riportarci a giorno d'oggi con il mio gruppo e insomma la location è di Castel Brando a Treviso, un bellissimo castello. Quindi ho voluto omaggiare sia la musica italiana e la bellezza italiana dei monumenti e di quello che l'Italia veramente offre, quello che è l'Italia, che è bellezza, no? La bellezza. La grande bellezza, citando il famoso premio Oscar. La mia cultura è italo-australiana, i miei mi hanno inculcato, mi hanno sempre dato tanta importanza, dato tanta importanza alla cultura italiana e questo oggi come progetto ho voluto veramente rappresentare questo disco, double, in questa mia rappresentanza della mia cultura italo-australiana. E' un ringraziamento anche a tanti della comunità italiana in Australia e in tutto il mondo che omaggiano ogni giorno la cultura italiana, no? Certo. Dall'essere italiano, dello stile italiano, il cibo italiano. E all'estero, come sai, è molto più apprezzato. Adesso guarda caso anche di cibo a Expo e quindi tutto quello che ne consegue. Esatto, quindi all'estero l'italiano o il Made in Italy è forse più apprezzato all'estero che qua. E' vero, famoso profeta in patria. Una curiosità, questi grandi successi inseriti nell'album, come ne hai scelti? Qual è stato il... Perché immagino che quando uno dice, oltretutto con la tua esperienza, tante interpretazioni nel passato, diventa non semplice a prendere. È stato veramente difficile. C'è stata una scrematura, pian piano questa immagine. Sì, sì, 200 pezzi di cover, no? Vedevo i siti, facevo ricerche, più di due anni, di ricerche, di quale pezzi mi rappresentava di più della mia crescita anche in Australia. I miei mi facevano sentire Mina, Celentano, Massimo Ranieri. Anche Lucio Dalla, perché c'è anche... Mi sono dimenticata, c'è un omaggio anche a Lucio Dalla con Caruso, che ho dedicato ai miei genitori, che adorano questa canzone. E tanti italiani nel mondo è simbolo proprio, no? Certo. E ho voluto fare certe canzoni anche di Paolo... Gino Paoli, Bindi, tipo What About Il Mio Mondo, che è la versione italiana e inglese, You're My World. Grande maestro Bindi. Can't Take My Eyes Off Of You, di Gloria Gaynor, e negli anni Sessanta era Frankie Valli and the Four Seasons. L'ho fatta in italiana, in italiano, scusate, ogni tanto faccio qualche gaffe in italiano, scusate. Scusate, è un italiano che possiamo altri temi. I can't help it. What happened is, per ricominciare, è la versione italiana di Can't Take My Eyes Off Of You, che l'ha portato Mina nel Sessantotto alla bussola, e l'ha cantata solo lì. Quindi ho voluto riprendere questa canzone e registrarla in un... Carlo Paolo si ha fatto questo arrangiamento R&B stupendo. E l'abbiamo riportato al giorno d'oggi, no? Con questo feel un po' mio, un po'... Molto carino. Questo sound mio. Ci sono... Ah, un inspiration è senza fiato il pezzo inedito, in doppia versione. Gloria! Gloria! Di Umberto Tozzi, in Italian and English. E poi cosa? Ah, poi Benny King, Stand By Me. Stand By Me. Pregherò di Don Bucky. Eh, sì, certo. L'autore Don Bucky, ricordiamolo? L'autore Don Bucky. Perché a me piace anche ricordare gli autori. È importante perché sono gli autori che fanno le canzoni. No? Non è soltanto l'interprete. Io qui faccio da interprete, ma sono anche autrice. E so che dietro un artista non è soltanto l'apparenza o quello che canta. Dietro c'è un lavoro di... Beh, se pensiamo ai grandissimi successi internazionali, quanti autori che non sono poi quelli che l'hanno portato a successo come cantanti. Esatto, esatto. Grazie a tutti.